Book 2 Ho bisogno di una camera singola. Ho bisogno di una camera doppia. Quanto costa la camera a notte? Vorrei una camera con bagno. Vorrei una camera con doccia. Posso vedere la camera? C'è un garage qui. C'è una cassaforte qui. C'è un fax qui. Bene, prendo la camera. Ecco le chiavi. Ecco i miei bagagli. A che ora c'è la colazione? A che ora c'è la colazione? A che ora c'è il pranzo? A che ora c'è la cena? A che ora c'è la cena? A che ora c'è la cena? A che ora c'è la cena?